Ciao, da Monica Delle Maestra Cubetti, siamo sempre all'interno dello structure block o blocco struttura. Vediamo altre caratteristiche. Se scendo con la barra laterale, sto visualizzando la parte a sinistra del blocco struttura, posso lasciare includi, cosa vuol dire che insieme all'oggetto che voglio salvare o esportare e mi includerà tutte le entità, quindi il mob è un alivari, se ci sarà una mucca, esporterò anche la mucchina, altrimenti posso disattivare le entità. Oppure posso fare rimuovi blocchi, vediamo cosa succede se faccio rimuovi blocchi, adesso mi sposto e vi faccio vedere la finestra di anteprima, ecco vedete che ho rimosso tutti i blocchi. In questo caso se avessi permesso di esportare le entità, esporterei solo la mucchina e non il mio muro di diamante. Quindi adesso torno qua, non voglio le entità, però rimuovi blocchi e vi faccio vedere cosa succede nella finestra dell'anteprima. Ecco che sono tornati i miei blocchi.